La tratta navale della Grimaldi-Barcellona-Porto Torres sta riscuotendo un notevole successo, sia come presenza passeggeri, sia nel traffico delle merci. Grande attenzione da parte dei tour operator catalani che si sono incontrati con le associazioni di categoria locali, l'assessore al turismo Mario Conoci e il responsabile marketing della compagnia di navigazione Lorenzo Bandini, per proseguire nel progetto di contatti e scambi tra i due paesi. Non solo entusiasmo tuttavia, alcuni operatori turistici, tra i quali uno dei più longevi nelle comunicazioni con Alghero, la Meridia Viaggia, lamenta la mancanza di servizi a Porto Torres, coincidente con lo sbarco mattutino della nave da Barcellona. Nessun mezzo, bagno o esercizio aperto per i passeggeri all'arrivo.